Le stelle di Azus Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 3 febbraio. Ariete, la luna opposta vi destabilizza e quando mettete in evidenza il lato emotivo del vostro carattere, rischiate di combinare davvero poco sul lavoro in amore. Toro, vi sentite in buona forma, avete una grande capacità di analisi e soprattutto riuscirete a mettere un pizzico di genialità in tutto ciò che farete. Gemelli, in amore siete sensuali, il vostro fascino non passerà inosservato e il partner vi riempirà di attenzioni, non impuntatevi su sterili questioni. Cancro sarebbe il caso di dedicarsi anche un po' agli altri, ai vostri familiari ad esempio che hanno bisogno di una vostra dimostrazione d'affetto. Leone, la fortuna è dalla vostra parte e anche in ambito finanziario avete delle buone occasioni che potete cogliere al volo grazie alla vostra autostima. Vergine, ancora una giornata positiva in cui però dovrete cercare di uscire dai soliti schemi. In amore, ad esempio, sarebbe il caso di evitare la routine. Bilancia, la luna nel vostro segno è complice di un incontro che può regalarvi un'emozione inaspettata. Sul lavoro potete sperare in un provvidenziale colpo di fortuna. Scorpione, giornata con la luna difficile, dovrete raddoppiare gli sforzi se volete portare a termine gli impegni. In questo momento non tollerate gli imprevisti. Sagittario, approfittate dell'ottimo influsso della luna per proporre nuove idee sul lavoro. La vostra dialettica fluida e precisa sarà molto apprezzata. Capricorno, state attenti sul lavoro perché la luna può portare un problema inaspettato se non studiate bene i cavilli di un contratto. Anche il partner vi farà innervosire. Aquario, questa luna rappresenta una bella ventata di novità nella vostra sfera sentimentale professionale. È il momento di godersi le cose belle della vita. Vesci in amore, lasciate passare questa giornata in cui non riuscirete a giudicare con serenità le situazioni di coppia e quelle professionali. Presto ritroverete l'equilibrio. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su Facebook alla pagina Oroscopo di Azus.